604 mila euro per un totale di 26 progetti propedeutici alla realizzazione di interventi di manutenzione nei plessi scolastici presenti in città. E questa è la cifra stanziata dal Governo Centrale per l'edilizia scolastica. Il totale del finanziamento stanziato dal Premier Matteo Renzi per i lavori di natura ed ile da eseguire nelle scuole delle varie regioni d'Italia è di oltre 91 milioni di euro. Gli interventi sono divisi in tre filoni, scuole belle, scuole sicure e scuole nuove. Per Licata il decreto già pubblicato sul sito www.governo.it prevede come detto 26 progetti. La cifra più alta per singolo progetto è di oltre 70 mila euro, mentre la più bassa è di 7 mila euro. Soldi freschi pertanto in arrivo per l'edilizia scolastica. Il piano d'azione varato dal Governo Centrale e di cui il Premier parlò fin dal suo insediamento prevede interventi su 20.845 edifici scolastici della penisola. La notizia è stata diffusa l'altro ieri. Da Palazzo di Città si attende adesso di conoscere il contenuto del decreto per capire come muoversi. 26 progetti sono tanti e la loro realizzazione permetterebbe di risolvere praticamente tutti i problemi delle scuole presenti sul territorio. Come si ricorderà, per quelle di pertinenza comunale, nelle scorse settimane sono stati avviati due accordi quadro che hanno preso il via dall'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi. Al momento di proporre un progetto cantierabile su un edificio scolastico, da Palazzo di Città era stata indicata la scuola media Gaetano De Pasquali di via San Francesco. Resta adesso da capire, se ne saprà di più al momento della ricezione del decreto, come e dove le somme impegnate da Roma dovranno essere investite e se a beneficiarne saranno solo le scuole comunali o se il finanziamento può essere esteso a tutti gli edifici scolastici licatesi.